Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne termina qui la settimana di programmazione di Uomini e Donne Infatti, oggi pomeriggio alle 14.45 sulla rete Ammiraglia Mediaset riprenderà la messa in onda del popolari e dating show ideato e condotto da Maria De Filippi I numerosi telespettatori di Canale 5 avranno la possibilità di vedere la puntata che è stata registrata nella prima di settembre Secondo le anticipazioni concesse in rete, in studio si parlerà sia del trono over che quello classico In particolare si parlerà dei tronisti e di Gemma Galgani. Ma cosa accadrà più tardi subito dopo la sopopera iberica Una vita? Nuove discussioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari La puntata che andrà in onda oggi pomeriggio, giovedì 30 settembre 2021, svelano che non potevano mancare le attenzioni per Gemma Galgani La 71enne piemontese non può dirsi felice come la cara amica Ida Platano, dal momento che nessun cavaliere è sceso per lei per manifestare la volontà di voler approfondire una conoscenza con dama torinese Questa situazione, come era prevedibile, scatenerà le battute ironiche della sua cerrima nemica Tina Cipollari nei confronti della veterana del trono over e tra le due scoppierà l'ennesimo battibecco Trono over, le conoscenze degli altri protagonisti Gli spoiler del quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne, dicono anche che in generale, comunque, i nuovi tronisti sono ancora all'inizio e al momento non ci sono grandi eventi da segnalare In studio, la padrona di casa Maria De Filippi chiamerà altri protagonisti del parterre senior di UND per parlare del frequentazione in atto e come sta procedendo Cos'altro accadrà? Per scoprirlo continuate a seguire il dating show di Maria De Filippi Per scoprirlo continuate a seguire il dating show di Maria De Filippi Per scoprirlo continuate a seguire il dating show di Maria De Filippi